Ciao, ecco qui per un altro video, è un video un po' corto in quanto è un video più di spiegazione e quant'altro. Avrei voluto già iniziare a fare un video con il microfono che mi è arrivato oggi, ve lo faccio vedere adesso, mi è arrivato giusto appunto oggi, solo che ho provato ad impostare tutto quanto, non ci sono riuscita e domattina andrò dallo store dove di solito mi faccio mettere a posto il computer e vediamo se me lo riesce a impostare come microfono principale per non dover più usare il microfono della webcam che uso di solito e vi mostrerò anche l'altro oggetto che mi è arrivato con il microfono. me l'ho ordinato da Amazon, sono riuscita a fare anche mezzo casino con il computer e vi spiegherò meglio tutto domani se riesco ad avere il computer in giornata o mal che vada arriverà un video di spiegazione un pochino meglio di quello che sono riuscita a combinare oggi pomeriggio e non sono riuscita a fare il mio primo video con il microfono.